Grazie a tutti. Non so se Claudio o Marco Regier riuscite a inquadrarle, così vediamo, vedete queste qui un po' si vedono e pensavo fossero un difetto della protesi, invece mi diceva il dottore, no no non è un difetto questo qui, servono per orientarla, per mettila nel verso giusto, perché se lei vede queste protesi, queste protesi non sono rotonde, sono cosiddette anatomiche, vede che hanno una forma anatomica. Lei l'ha già presa meglio di me. Lo prendo così per fargliela vedere, perché se la prendo così magari non se ne accorde. Certo, certo, non ha fatto bene. Ma se la prende così vede che la base sotto è più larga di quella sopra, come una mammella normale, e dirò che ce ne sono svariatissime forme, addirittura rispetto a queste una base molto più pronunciata, più basse, a seconda del tipo di mammella che andiamo a sostituire. Ma come sono fatti? Che materiale sono questi? Questo, sia esterno che interno è in silicone, esterno è il silicone in un involucro, all'interno è un gel di silicone, un gel di silicone che si dice adesso coesivo, perché? Perché le molecole di silicone sono coese l'una all'altra, per cui anche se dovesse rompersi, ma auguratamente purtroppo può succedere per varietissimi motivi, il silicone non viene portato in giro come succedeva fino a qualche anno fa. Senta, e le altre due ce le può spiegare che le altre due, dottore? E' sempre silicone, giusto? Sono tutti uguali all'interno e all'esterno, cambia il tipo di superficie, non come materiale ma come forma. Sentirete parlare, soprattutto in questi periodi in cui le protesi sono un po' sotto accusa, che queste sono protesi lisce, cosiddette, e queste sono protesi testurizzate. Cosa vuol dire? E' appunto, allora ultimamente, negli ultimi anni, si mettono solo queste protesi, quelle delle testurizzate, se noi vedessimo un ingrandimento, vediamo che questa è una superficie micro, di micropori, e questo serve perché una volta posizionata ha molto meno possibilità di dislocarsi rispetto a quella liscia. Ah, perché si può muovere quella liscia un po' dentro? Non è che vada in ascella, ma purtroppo è successo una volta. Anche in ascella. Perché? Perché l'intervento, naturalmente qualsiasi tipo di intervento, dà un minimo… In tutti e due può creare poi dei problemi al corpo di inserimento? No, ma che problemi, come dislocazione no, semplicemente bisogna rifare un intervento. No, dicevo, per abituare al corpo umano, quel silicone lì non crede sopra… No, è materiale inerte, quindi non c'è allergia, non c'è, a questo punto di vista là no. Non confondiamo allergie con infezioni che purtroppo, qualsiasi intervento, può avere delle infezioni, ma fortunatamente sono abbastanza rare. Dicevo che questo è materiale testurizzato e che permette un'adesività maggiore, una maggiore aderenza, quindi meno possibilità di trovarla dislocata in questo senso. La bloccano nel corpo più o meno, mi sembra di capire giusto. Sì, anche perché sotto abbiamo la parete toracica, sopra c'è la parete, lo strato superficiale, lo blocca in questa maniera, per cui da così non si può… E questi servono per localizzarli, in modo tale che non sia messa così, per intendersi, o così. Ho capito, no, io ne prendo in mano, pensavo fossero un po' difetti. Sì, i difetti, no, no, vede che se hanno difetti sono tutti uguali. Certo, invece l'altra è con l'altro apparecchio. Questo è un cosiddetto espansore, perché la gente sente parlare di ricostruzione con l'espansore o ricostruzione con protesi. Cosa vuol dire? La ricostruzione è la stessa, nel senso che viene fatta nella stessa identica maniera, stesso identico procedimento, solo che il posizionamento di un espansore si chiama ricostruzione provvisoria o in due tempi. Perché? Perché questo richiede un reintervento a distanza di sei mesi, un anno, anche due, non c'è problema, per rimuovere l'espansore e mettere la protesi definitiva. Questo sistema, questo duplis intervento, questa tecnica, diciamo, si usa quando, per esempio, abbiamo una melle di volume importante, dove è difficile ricostruire con una protesi adeguata, con un risultato estetico accettabile. È preferibile portare progressivamente a riavere un certo volume fino poi a dopo programmare l'intervento definitivo. E questo, sì, perché, santi dicono, ma come fate a gonfiarlo? Perché questo va riempito di acqua. Ah, va riempito? Già durante l'intervento ne viene messa una certa quantità, a seconda della struttura anatomica che abbiamo di fronte. va riempito quasi, cioè, va riempito il più possibile perché non ci sia una differenza tanto evidente, che una volta uno usciva dalla sala operatoria, piatta, diciamo così, ed era una sensazione sicuramente non piacevole, anche se preparata a tutto quello che vogliamo, ma adesso si esce dalla sala operatoria già con una ricostruzione in atto, nella stragrande maggioranza di casi, anche se viene fatta con un espansore, quindi c'è già un certo volume, che viene aumentato nel giro di 15 giorni, 20 giorni, un mese. Tanti chiedono, ma come fate a mettere del liquido su una protesi? Sì, perché se è bucata la rompete, giustamente. Perché questa è una valvola. La valvola che viene... Se riusciamo a inquadrare, chiedo con la telecamera, se puoi far vedere qual è la valvola. Questa è una valvolina, una valvolina in titanio, che viene localizzata dall'esterno con questa calamita. Vedete che la calamita si posiziona dove c'è la valvola. Una volta individuata, perché il tutto questo manovra si fa naturalmente al di sopra dei tessuti. Incredibile. Una volta individuata la sede della valvolina, si punge con un ago e si inserisce 20, 30, 40 cc di acqua, quanti ne vogliamo, quanti possiamo, quanti riteniamo opportuno. La tecnica oggi davvero ha portato... E quanto costano quelle protesi lì? Diciamo che si varia, a seconda delle marche, dai 300, 400, fino ai 600, 700 euro. Siete, non è mai capitato, dottore, che qualche paziente le dica però non voglio l'apotesi, voglio anche... Non voglio nulla. Sicuramente sì, sicuramente sì. Lei è lo staff vostro? Io mi sento di insistere a volte. Ah, lei insiste per averlo? Mi sento di insistere perché so che tante volte questo atteggiamento è un atteggiamento emotivo. Cioè nel senso che uno dice toglietemi il primo possibile il mio male, non mi interessa in niente, il mio marito l'ho già trovato, come se si dice. Ma io gli dico sempre, signora, ma si guarderà in un specchio qualche volta anche se l'ha già trovato il marito? Sì, è vero, è vero, quindi... Sono pochi casi, quindi. Ma ci sono. Ah, ci sono? Sì, ci sono. Nonostante lei faccia pressione... Sì, per i mille motivi, perché giustamente non sono mica criticabili, perché uno non vuole un corpo estraneo, perché uno non vuole la protesi, perché hai sentito parlare di queste protesi, soprattutto ultimamente, che possono avere di istudio, di problemi, e quindi ci sono. Qualcuno, qualcuno... Si può insistere fino a un certo punto, perché si può dar conto la volontà di un paziente. Certo, senta, quante operazioni fate al tumore della mammella qui a Padova? Nel suo rapporto, diciamo... Alla settimana di media. Le maggiori casistiche, diciamo, europee, nel senso che abbiamo circa 1200-1300 interventi all'anno, con 800 primi casi di tumore della mammella all'anno. E mica... Tre al giorno, dottore? Eh, sono circa una ventina alla settimana. Tre al giorno, siete per tre? Sì, calcolando che un giorno facciamo solo chirurgia estetica, sì, tre, quattro, cinque al giorno dipende. È micidiale. Dipende dall'entità dell'intervento. È micidiale questo male qui, eh? È una cosa incredibile, dottore. C'è proprio... Io pensavo sì, però questi numeri sono numeri davvero... Sì, è decollato come reparto, come istituto in genere, come... Adesso, io dico sempre che lavoriamo in equip, non siamo mai... Sì, siamo una chirurgia estetica, però lavoriamo in equip con oncologi... Sì, è importante, come dicono così, le chiedo anche in questo... dove vengono operate queste donne, il carattere della donna, cioè nel superare tutto. Se una è positiva o no... È fondamentale, ma come in qualsiasi campo. Come in qualsiasi campo che è fondamentale. L'aiuto da parte del paziente è fondamentale. Anche se è troppo facile dire... Deve aiutarti, perché siamo i primi noi a dovere... Avranno bisogno anche di una psicologa, di tante... Fa parte della nostra... Della vostra assistenza, insomma. Sì, perché poi in questo studio, più o meno, abbiamo avuto ospite, che poi vedremo le foto, le ragazze che sono andate a fare la marcia a Londra, mi sembra... A proposito... Queste qui erano proprio... Sono venute qui, erano... Ficero paura, avevo una grinta... Io ricordo sempre quando è partito il... E sono venuta da me in ambulatorio, e il dottore, era appena operata questa signora, diceva, cosa dice se... vorremmo fare delle marce, ma signora, certo l'attività fisica, il discorso che facciamo adesso, l'attività fisica è più che... più che auspicabile, anzi... No, no, ma vorremmo fare delle marce... Eccola qui, eccola qui. Insomma, detto fatto, per farla breve, queste non solo hanno fatto il maratone di New York, con due mie collaboratrici, due dottoresse, due anestesiste e due chirurghe, e una quindicina di pazienti operati al seno, che addirittura avevano fatto chemioterapia, hanno fatto a parte del nostro maratone, ma sono andate a New York, sono andate a Londra, sono andate a Berlino... No, le spiego una cosa molto simpatica, sono state ospite alla mia trasmissione sportiva che faccio a lunedino, e quella sera che sono venute casualmente, c'era il presidente del Pado, quello del Cittadella e uno del Capodazio, e tutti assieme hanno dato 1500 euro di testa per comprare poi la barca, come si chiama, quella che... A me, però, sì, parliamo dell'house boat, del... Sì, della Dragon boat, sì, eccola qua, allora gli hanno dato un contributo per comprare perché costa anche di... Sì, perché... Loro che poi sono state molto brave quella sera, sono riusciti a convincere i presidenti, insomma, a tirar fuori dei soldi... No, perché vuol dire, va benissimo la marcia, naturalmente, ma ci sono anche altre attività... No, ma al di là di questo, era perché lì all'interno questo bel segnale, ci sono creati anche dei gruppi familiari, cioè un gruppo... No, ma uno spirito di aggregazione è unico, di aggregazione straordinaria, è davvero... La condivisione di problemi, ma soprattutto un obiettivo, che è la cosa principale, cioè l'obiettivo è quello di, che so, arrivare alla maratona di New York, quindi non è più l'obiettivo di uscire dal tunnel del tumore, ma di averne un altro più immediato, per esempio. Ecco, senta, io credo di averle chiesto quasi tutto, mi aiuti se mi sono dimenticato di qualcosa... Posso farle una... siccome me lo sento sempre chiedere, il discorso delle protesi, se sono sicure, se non sono sicure... Certo. L'avrà sentito ultimamente tutto questo... Sì, dallo stesso. Che hanno ritirato delle protesi, che fra l'altro hanno ritirato le protesi che usavamo noi, da sempre, le hanno ritirate dal mercato europeo, perché notizia di ieri, l'altro ieri, in America, invece le hanno... continuano a usarle e a venderle, perché è stato comunicato della FDA americana, che dice che non ci sono dati a sufficienza, al tutt'oggi, per dire che sono pericolose. Ovviamente non ci sono dati per allarmare le pazienti. Cosa succede? Cosa hanno trovato? Hanno trovato che nel mondo, quindi con infinità di protesi collocate, ci sono stati 400 e qualcosa casi di linfoma. Linfoma è una malattia maligna, però questo preciso linfoma che è stato trovato in pazienti con questo tipo di protesi, testurizzate, anche se dopo è stato dimostrato che anche nelle pazienti con protesi se ce ne sono state dei casi, non tanto per dire, questo tipo di linfoma poteva insorgere in queste pazienti, appunto dicevo, con... però fatalità è un linfoma che nella stragrande maggioranza dei casi guarisce togliendo la protesi e la capsula, quindi già questo fa pensare, se è un linfoma maligno difficilmente guarisce solo togliendolo, primo, secondo, si chiama anche sieroma, un sieroma cronico, cosa vuol dire? Vuol dire che la protesi, essendo un corpo estraneo, a volte può produrre, può indurre la produzione di liquido, di siero, probabilmente questo siero cronicizza, questa produzione si cronicizza e può dare effettivamente adito alla formazione, il via alla formazione di cellule T atipiche, ho parlato in termini tecnici, ma per dire, insomma, che può essere, può esserci questa insorgente di linfomi, però a tutt'oggi non è ben chiaro se nelle persone che hanno avuto questo problema con le protesi c'era magari la malattia pregressa, c'era magari un immunodeficiente, c'era magari una predisposizione di qualche tipo, cioè dati che non abbiamo dalla letteratura, quindi al più sembra un grosso, come posso dire, cioè averli ritirati in Europa, tanto è vero che in America sono tranquillamente usate, sembra forse un eccesso di zelo, fatta l'Italia il tutto è partito dalla Francia. Può essere anche interessati anche. Qua mi fermo. Lo dico io perché poi la Francia queste cose è un po' con i paesi soprattutto africani perché anche lì sarebbe da parlare ma non è il caso ne parleremo durante i nostri telegiornali e le nostre informazioni. Senta dottore, credo siamo arrivati davvero alla conclusione. È sempre affascinante ascoltare come voi che poi come ha detto lei prima con una gavetta davvero difficoltosa, difficile anche oggi siete rimpegnati ore su ore al giorno. Io lo dico a tutti i suoi colleghi che visto che lei gioca a calcio certi calciatori prendono centinaia di milioni di euro all'anno e un chirurgo prende davvero una miseria e salva vite quindi trovo delle disparità però purtroppo siamo noi che vogliamo questo. Però questo fa onore e merito a tutti voi che fate questo lavoro e che fate vivere di più la gente. Quindi davvero la ringrazio di averlo avuto ospite perché è stato davvero molto interessante. Ci rivedremo magari. Ringrazio io ovviamente dell'ospitalità. è stato piacevole spero sia stato anche per sicuramente per le nostre telespettatrici sicuramente saranno state lì ad ascoltarci perché sicuramente avranno avuto delle nozioni che magari prima non sapevano quindi davvero grazie. In chiusura le chiedo il pensierino della sera cosa vorrebbe fare per migliorare ancora il suo lavoro nel suo ramo? Beh dunque c'è sempre da migliorare naturalmente io credo però che la disponibilità e il colloquio con la patente sia fondamentale. credo che noi se riusciamo a dare questo abbiamo già raggiunto un grossissimo scopo e ad averne un riscontro naturalmente perché come dicevo prima il grande nostro compito è quello di prendersi cura oltre che di curare e penso e spero che riusciamo a farlo nella misura migliore naturalmente. Io le auguro e dà un bel in bocca a noi poi sono sicuro che ci riusciamo. Se vuole finiamo con quel pensierino che le dicevo prima di quel famoso più sarà grande la conoscenza di ciò che dobbiamo fare e maggiore sarà il potere di sapere cosa fare credo siano parole sacrosante chiudiamo con queste qui che sicuramente aiuteranno i nostri telespettatori non solo le telespettatrici ma un po' tutti naturalmente vale per noi come per i pazienti oppure per i pazienti come per noi sicuramente vale per tutti grazie dottor Fernando Bozza è stato davvero un piacere averlo avuto a ospite invece ai nostri telespettatori l'appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Interparis buonanotte 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 Grazie a tutti.